ciao a tutti pratizzano beach 12 febbraio 2022 oggi da un'idea del pifero del professor occhi di falco sottolineo siamo voluti venire a marzuoli e guardate la splenata nevica nevica abbiamo domenico abbiamo il pifero abbiamo il professor occhi di falco giornata perfetta le previsioni infatti una neve bagnata poi abbiamo anche altri due ospiti che adesso vado a intercettare marisa cosa ne pensi di questa splendida giornata estiva penso che sia bellissima già essere nel bosco è una fortuna il geometra dove l'abbiamo al geometra è la è la è lui va in incognito geometra cosa ne pensa di questa giornata climaticamente parlando la prossima volta veniamo con le ciaspole ci vuole dell'occhio bene ci aggiorniamo più tardi ciao a tutti da fratizzano beach ciao a tutti